Ciao a tutti! Oggi vedremo come preparare la pasta con funghi e salsiccia. Vediamo subito gli ingredienti. Per preparare la nostra salsa con funghi e salsiccia utilizzeremo dell'olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo, dei funghi porcini, della salsiccia, del pomodoro pelato e del vino bianco. Vediamo subito la preparazione. Mettiamo in una padella l'olio extravergine di oliva, aggiungiamo l'aglio, se volete potete anche tritarlo, e il prezzemolo. Adesso andiamo a mettere la nostra salsiccia, che io ho precedentemente sbriciolato. facciamo cuocere per qualche minuto. Adesso io vado ad aggiungere i funghi porcini, che ho precedentemente tagliato. faccio cuocere per qualche minuto e dopo sfumiamo con il vino bianco. Sfumiamo con del vino bianco. Adesso aggiungiamo i pomodori pelati. lasciamo cuocere per circa 15-20 minuti. Vi consiglio però, prima di aggiungere del sale, di assaggiare la salsa. Adesso l'acqua bolle. Io vado a mettere in cottura la pasta. Io utilizzerò le caserecce, ma potete utilizzare anche penne, rigatoni o un altro formato. Adesso la pasta è pronta e andiamo a saltarla nella nostra salsa. aggiungiamo del parmigiano grattugiato. Un po' di acqua di cottura. Adesso impiattiamo. aggiungiamo il peperoncino. Aggiungete, se volete, del peperoncino e buon appetito!